C'è un certo monopolio dell'informazione che rende poi poco sostenibile il lavoro di molti giornalisti, di molti realtà locali, quindi sono veramente preoccupato di questa erosione dei posti di lavoro, delle persone che non lo trovano, ma anche dei giovani che magari aspirano a fare il giornalista e non trovano modo di mettere a frutto le loro doti. Quindi questo tema del giornalismo come lavoro credo che sia un problema che la rapidità di altri mezzi e la diffusione di altri canali rende veramente problematico.